Musica Buonasera amici appassionati bianconeri di Udinese Channel e benvenuti all'appuntamento con Serie A Preview 26esima giornata, andremo ad analizzare tutte le formazioni e come al solito lo faremo giocando sempre a tre e con il nostro tridente pesante come ci schieriamo ogni venerdì, ormai seconda puntata di questo nuovo format e quindi non avrebbero bisogno di presentazioni ma le andiamo a fare lo stesso c'è alla mia sinistra, Fernando Siani, ciao Fernando Ciao Stefano, un saluto all'Iracondo Maurizio e agli amici che ci seguono da casa Salutiamo quindi l'Iracondo Maurizio che tra l'altro ieri in una partitella ha davvero dato di tutto di più peccato non aver registrato, un saluto a Maurizio Ciao, ciao a tutti i nostri appassionati e mi verrebbe da dire tridente pesante ma io sono la parte leggera Benissimo, benissimo, ci avevo pensato anch'io Ferrari Infatti io sono centrale perché punta di peso perché tra i tre ovviamente sono quello più... Io sono la gazzella Esatto, tu devi sgroppare sulla fascia destra Come al solito il format sarà lo stesso, Fernando analizzerà quello che riguarda le formazioni di casa Maurizio quello delle squadre di trasferta, vi daremo consigli del fantacalcio e anzi una sorpresa finale con quelle che saranno le nostre formazioni, i nostri consigli per il fantacalcio detto questo prima di cominciare dobbiamo fare l'applauso a Fernando Siani che ha vinto la settimana scorsa il prototipo di concorso con 86 ha fatto la sua formazione del fantacalcio anche se non era ancora ben regolamentato il gioco quindi non abbiamo portato il cucchiaio di legno che avrebbe vinto Maurizio Ferrari con un misero 67 Vabbè io ci ho messo il cuore come al solito, mi date del racconto ma ci ho messo il cuore è inutile che metti We are the Champions Ha messo We are the Champions, possiamo sentire anche... Questa è per Fernando Siani, è stato bello Fernando Non ho mai visto il secondo che abbraccia il primo, comunque... Tra l'altro appunto io mi godo questo secondo posto con il mio 77 che non è comunque male ma dalla prossima settimana le cose si faranno sicuramente più serie abbiamo la classifica... Si pareva Fanno più serie quando non vinco io chiaramente Ci mancherà Vabbè ma scusa, lui hai scelto 300 punti, io ho pure il portiere, è normale La chicca di legno, ho preso Daniele Conti, Camille Glick Però effettivamente, allora... E riconosci la qualità Allora, sul gol di Glick ho detto, è fatta, cioè giustamente Vabbè ma allora, riconosciamo a Fernando quelli che sono i suoi meriti però se devi fare una formazione giochi senza portiere Non hai scelto portiere, tiratina di origini Il taglio Ho azzeccato Diego Lopez, era fuori Diego Lopez, grandissima partita Milan Chievo Appunto Milan Chievo vai a scegliere il portiere e alla fine... Occhio alle dritte di Ferrari Occhio alle dritte di Ferrari Vedremo come si comporterà questa settimana Se no mi si rompono tutti, visto che non salsi dopo dieci minuti Eh anche lì, occhio alle dritte di Ferrari Occhio, occhio in tutti i sensi Esatto, l'esatto opposto dovete fare quindi praticamente Vabbè Continuiamo con la classifica La cosa bella è che Fernando Siani poi fa il fantacalcio con me Esatto, tra l'altro primi Ferrari, quindi insomma un iracondia di misa C'è un fantacalcio che definire tale insomma difficile Però all'interno della Serie L'Udinese Io ho il mio quarto posto Parliamo di Serie A Parliamo di Serie A Altrimenti credo che non riusciremo ad analizzare praticamente nulla Classifica innanzitutto per vedere che dopo il pareggio tra Roma e Juventus Insomma non è cambiato nulla Lo scudetto dovrebbe essere, questa è una grafica dei risultati Dovremmo avere quella della classifica Con la Juventus più 9 sulla Roma Che ormai c'è a mezzo e anche tre quarti di scudetto cuscito sul petto Lazio e Fiorentina che si giocano l'Europa lì Che poi Roma e Napoli secondo e terzo posto Notare ovviamente ancora gli asterischi Di Genoa, Udinese e due per il Parma Udinese che ha 28 Deve assolutamente tornare a vincere Comunque a fare risultato Zona calda che ha risucchiato anche l'Atalanta Con 23 punti Il Cagliari che però perdendo a Verona Ha lasciato un po' di chance alla squadra nerazzurra Che però ha perso per strada il suo allenatore Stefano Colantuono esonerato è arrivato di Reia Le partite che andremo ad analizzare Sono per fortuna, pare, senza cataclismi che potrebbero succedere 10, torneranno a essere 10 Perché il Parma dovrebbe andare verso la salvezza Per mano della Lega Andiamo a vedere le partite che inizieranno con Sampdoria Cagliari Sabato alle ore 18 Poi ci sarà l'anticipo serale tra Milan e Verona Lunch match tra Cesena e Palermo Poi via via le partite delle 15 di domenica Chievo-Roma, Empoli-Genoa, Parma-Atalanta E Udinese-Torino Napoli-Inter Il posticipo domenicale molto bello Doppio Monday Night interessantissimo Soprattutto in Lazio-Fiorentina alle ore 19 Juventus-Sassuolo alle ore 21 Questo il programma Cominciamo quindi a bomba direi ragazzi Con Sampdoria-Cagliari È una partita molto delicata La Sampdoria è tornata a vincere dopo 6 turni che non vinceva Il Cagliari che ha perso una gara inaspettata Tra l'altro tiriamoci le orecchie Tutti quanti Avevamo consigliato tutti i giocatori del Cagliari A parte Renato che comunque ha preso conti E il Cagliari che invece ha perso Diciamo malamente in casa contro il Verona Ha provato la reazione del finale Nulla da fare Qui vediamo scorrere le immagini della gara dell'anno scorso Finì 1-0 con gol di Gastaldello E c'è grandissima parità nei precedenti 17 pareggi e 6 vittorie a testa per le due squadre Qui vediamo il gol di testa appunto di Gastaldello Una specialità a Gastaldello Che ha salutato la Doria per andare al Bologna Qui vediamo poi il gol annullato a Marcosau Entriamo nello specifico con le notizie da Genova Sì, allora Mianovic ritrova a disposizione Obiang, Soriano e Deder Scontate dunque le squalifiche per loro Il tecnico è intenzionato a riproporre il 4-3-3 È possibile allora esclusioni eccellenti A rischio ci sono Palombo e Okaka Indisponibili invece Cacciatore, Rizzo e Mugnoz Sicuramente è un bel rebus la formazione della Sampdoria Che possiamo provare a risolvere Noi l'abbiamo ipotizzata così comunque Con quella che potrebbe essere una bocciatura a centrocampo di Acquama Giustamente Fernando ci ha parlato anche di Palombo a rischio Vediamola in grafica la formazione della Samp Con il suo 4-3-1-2 Che però praticamente sta diventando un 4-3-3 Viviano tra i pali A sinistra Mauri torna il caro Reggini Dopo la semirissa con Mijailovic Invece a centrocampo potrebbe indietreggiare Soriano E lasciare in panchina qua Noi abbiamo ipotizzato Muriel Nella tridente insieme a Okaka e Eder Diciamo che di questi tre L'unico sicuro del posto è Eder Poi vedremo se anche Edo riuscirà Secondo gettone di presenza per Romagnoli Ancora lui È diventato chiaramente il nostro cavallo di battaglia Quindi vedremo la Sampdoria come affronterà questa partita Mentre il Cagliari deve assolutamente vincere Cagliari che purtroppo perde quello che era il tassello che avevo scelto Nella scorsa giornata del Fantacalcio Forse uno dei suoi tasselli più in forma Anche se ci sono altri elementi che stanno facendo bene Un nome su tutti lo vedremo tra poco Ha parlato Zola in conferenza Sottolineando proprio questo aspetto Vale a dire Don Sa non ci sarà Don Sa out Con la Samp Possibilità per Usbauer Quindi queste le situazioni trattate dal tecnico Dall'ex tecnico del Watford Tra le altre Ha sottolineato anche che è un momento difficile Ma inutile piangerci sopra Parlando di singoli Ha sottolineato anche il ritorno di Sau Ho visto bene Marco in allenamento Così come Mpoku Che vive un bel momento E proprio su Mpoku In settimana è uscita anche una voce abbastanza curiosa Sa che io cerco Scansione un po' sempre tutte le situazioni E c'è una foto di un dirigente dell'Inter Non del Cagliari Perché Mpoku era dell'Inter virtualmente Logicamente il no di Hobie ha cambiato tutto Beh Hobie Logicamente va bene che Hobie ha segnato nel derby Però i tifosi nerazzurri vedendo questo Mpoku Si staranno un pochettino rosichiando le mani Posso sbilanciarmi Anche se so che siamo con i tempi molto ristretti Però conoscendo il presidente del Cagliari Che era un vecchio dirigente dell'Inter Io non escludo che in caso di retrocessione dei Sardi Poku non possa proprio ritrovare il biglietto per Milano Magari perché no Magari non auguriamo la retrocessione Potrebbe succedere anche Qualora il Cagliari restasse in Serie A Sappiamo che Mpoku in tre partite ha dimostrato delle cose pazzesche Complimenti ancora a chi ci ha puntato Magari poteva essere già dell'Inter Il no di Hobie effettivamente fa sorridere C'è però una piccola curiosità Perché sarebbe proprio stato Piero Ausilio Secondo le indiscrizioni di Gianluca Di Marzio A consigliare l'acquisto di Mpoku Trasferitosi in Sardegna con prestito oneroso Quindi è giusto quello che ha detto Fernando Evidentemente Dico mica scemente No 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 Viene rinforzato anche da un collega autorevole Come Gianluca Di Marzio Logicamente alla prima magari credere a Fernando Siani Bisogna sempre prendere notizie con le molle Andiamo a vedere quindi la formazione del Cagliari Che perde un tassello importante Albinec dal non ci sarà per infortunio 4-3-2-1 confermato per Zola Che come detto deve vincere Perciò ci sarà Gonzales in difesa Con De Sena che ritorna nel suo ruolo originale di centrocampista Avelar in vantaggio su Murru Di Akite Confermato nonostante una prestazione horror Contro il Verona Come ha detto Maurizio E ce l'ha anticipato con il suo touchscreen Hushbauer dovrebbe esordire a centrocampo Chris Etig Al posto di Conti squalificato Un po' cucosso e lungo dovrebbe essere il tridente Però occhio per tutti i Fanta allenatori SAU sembra sia tornato in gruppo E disponibile quantomeno per uno spezzone di gara La speranza è ovviamente che possa giocare dal primo minuto Per chi lo ha acquistato al Fanta Calcio Come ha detto format diverso I consigliati li vedremo tutti alla fine Con una formazione che abbiamo schierato appositamente Andiamo a dire chi sconsiglieresti Fernando Io sconsiglio Di Akite del Cagliari Bene Che non mi è piaciuto nell'ultima partita E davanti insomma tra Eder, Muri e Leto Okaka Secondo me non passerà un bel pomeriggio Maurizio Io premesso che bisogna vedere se farà il suo esordio Però vedo in difficoltà magari proprio Hushbauer Che deve integrarsi un pochettino nella realtà del calcio italiano Non è facile sappiamo le difficoltà dal primo minuto in Serie A Insomma non lo consiglia Considerando anche il momento complicato del Cagliari Poi magari segnerà Io ho visto che ancora secondo me non ha smaltito Quello che è successo nel derby Direi Reggini Lasciamolo ancora a riposo Per un turno Lo schiereremo nella prossima formazione magari Se ci sarà spazio Milan-Verona Rimaniamo a sabato Ore 20.45 Partita molto interessante Tra due squadre Che vengono da risultati diversi L'Ellas che ha vinto a Cagliari E si è rilanciato Alla grandissima Invece il Milan Che è pareggiando contro il Chievo Insomma ha dato forse il colpo di grazia alle sue velleità europee Stiamo vedendo scorrere le immagini dell'anno scorso Decise un gol di Balotelli sul calcio di rigore Nel finale Per un'ingenuità difensiva del Verona E dobbiamo dire anche che il Verona Non ha praticamente mai avuto un successo In casa del Milan a San Siro La vittoria più larga dei rossoneri Addirittura del 91-92 4-0 Ci fu la doppietta di Carlo Ancelotti Che è stato anche allenatore del Milan E ovviamente Se si fosse giocata qualche anno fa Questa partita non avrebbe avuto pronostico Però invece chissà Che questo Verona Possa approfittare Della crisi momentanea del Milan di Inzaghi Posso dire una cosa su queste immagini? Perché si parla di rivoluzione Milan E ho visto Seedorf, Cacca, Balotelli Il Milan ha già vissuto una rivoluzione Qui si continua davvero a rivoluzionare L'unico che era rimasto era Montolivo Tra l'altro qui c'era Uniturbe Con la maglia gialla del Verona Giocherà contro il Chievo questa settimana Però ovviamente con la maglia della Roma A Milanello che dicono? Allora i rossoneri sono pronti a schierarsi con il 4-3-3 Sembra esserci l'occasione giusta Per Alessio Cerci Per rivedere la maglia titolare In mediana invece retrocesso Buonaventura Ai box De Jong e Montolivo Sembra recuperato Paletta E' convocabile anche Abate Che da oggi si è riunito in gruppo Poi Inzaghi ha speso parole di elogio per destro Dicendogli di stare tranquillo E' un giocatore che tocca pochi palloni Esattamente come faceva Inzaghi Da giocatore E quindi deve stare tranquillo Perché quando si è abituato a fare un gol a partita Quando poi non segni per due Tutti ti criticano Però in realtà le qualità sono lì e ci sono Vediamola la formazione del Milan Perché destro Nonostante sia stato messo in dubbio Da qualche organo di formazione sportiva Sarà al suo posto Inzaghi che dovrebbe tornare al suo 4-3-3 Diego Lopez ovviamente il portiere In difesa del ballottaggio è tra Alex e Bocchetti Noi abbiamo messo il brasiliano Con ancora Bonera sulla destra Ma occhio al recupero di Abate Che potrebbe stringere i denti Anche se è difficile A centrocampo Buonaventura Con il giovane olandese Van Ginkel E Andrea Poli Panchina per Essien Davanti destro Menez e Cerci Ovviamente da invertire le posizioni di Menez e destro Però Cerci che dopo una settimana travagliata Torna forse Mettiamo il condizionale Tornerebbe Titolare E questa potrebbe essere una buona occasione Per tutti i fanta allenatori Che hanno puntato su di lui E credo anche sborsato Delle cifre importanti a gennaio Per quanto riguarda l'Ellas invece Per quanto riguarda l'Ellas Ci sono un po' di analisi Che vanno un po' anche al di là Di quelle che sono le informazioni di campo Analisi che riguardano Un tema tanto caro Ai nostri amici del fanta calcio Va a dire Gli innesti dal mercato Che secondo un'analisi Tutto il mercato web Non avrebbero reso Come ci si poteva attendere Non avrebbero cambiato un po' l'inerzia Con Pisano Che è stato deludente Greco Che si è preso il centrocampo Ma dopo una buona partenza È un po' calato È difficile giudicare Anche Fernandinho Che era l'acquisto Un po' più interessante Eccolo ce l'abbiamo qua Fernandinho Vabbè Piccolino No lui è Non è tanto piccolo Non sei piccolo Già allora A social abbiamo paragattato All'Onso Adesso abbiamo dato La versione piccola Bisogna trovare un paragone All'Onso solo per l'omonimia Sì sì Vabbè però Ci mancherebbe altro Comunque meno di mezz'ora In due partite E dunque insomma Poco giudicabile Un'altra statistica curiosa Che vi propongo D'altacce Legata a Mandorlini Perché si sottolinea Come l'esonero di Colantuono Abbia cambiato E gerarchie Tra gli allenatori Con più lunga permanenza Alla guida di un'attuale Squadra del campionato E il più longevo Ora è Mandorlini Come ricorda Il Corriere di Verona Quindi Tra momenti più facili E momenti più complicati Comunque ha vissuto Un periodo abbastanza lungo Applausi quindi Per Mandorlini Che ha scippato Purtroppo per Colantuono Questo titolo All'ex ormai Tecnico dell'Atalanta Che è stato allontanato Dalla panchina Della squadra bergamasca Rimaniamo sull'Ellas Vediamo la formazione Che dovrebbe essere A specchio Rispetto a quella del Milan Con il 4-3-3 Ancora conferme per Benussi Anche se Raffael È rientrato in gruppo E questo comunque Ci fa piacere In difesa Dovrebbe essere tutto confermato Pisano-Marquez Moras-Agostini Poi abbiamo Il centrocampo Con Jacopo Sala Che tornerà titolare Insieme a Taxidis E Alfredson L'unico ballottaggio Dovrebbe essere Tra Jankovic E Cristo Dulopulos Noi abbiamo messo L'ex Genoa Insieme a Juanito Gomez E Luca Toni Uno che non delude mai Che la settimana scorsa Maurizio Stava per consigliare E avresti fatto Più che mai bene A consigliare Un bomber come Toni Ho fatto un paio di analisi Che poi mi hanno fregato Sia quella di Toni Che poi non ho scelto E quella di Salah Che è stato subito Accalappiato Da Fernando E quindi chi sconsiglieresti Il Milan-Verona? Beh nel Milan Io sconsiglierei destro Proprio Perché onestamente Tocca così pochi palloni Che diventa complicato Magari poi segnerà E mi smentirà Come dicevo in precedenza Però Il momento delicato Del Milan Dal punto di vista realizzativo Vedo più facile Magari un gol di Menès O un gol comunque Di qualche altro elemento Dei rossoneri Io invece sconsiglio Stavo per svelare già le carte Sconsiglio Rafa Marquez del Verona Che secondo me È il più classico dei bidoni E anche se Mauro Insomma Non vede una giornata Fortunata per destro Secondo me Il Milan invece Può rialzarsi Potrebbe fare una buona partita Cerci Quindi io non schiererei Agostini Il terzino sinistro del Verona Che potrebbe andare in difficoltà Passiamo alla domenica Lunchmatch Cesena-Palermo Cesena che è stato teatro Purtroppo Dell'ultima sconfitta Dell'Udinese 1-0 con gol Di Rodriguez È un Cesena che quindi Si è rilanciato Tra virgolette In classifica Una classifica che ancora piange Però il Cagliari Che è distante Solo un punto Dall'altra parte Il Palermo Che comunque Cerca punti importanti Dopo il pari interno Contro l'Empoli È un Palermo Che vuole ritrovare Immediatamente La via del gol In una partita Molto delicata Che il Cesena Nei suoi precedenti Non ha mai vinto Un pareggio E una sconfitta Sono soltanto due Precedentina Tra le due squadre Cesena che arriverà A questa sfida Come? Ci arriverà Malino Perché si è fatto male Rodriguez Ha fatto appena in tempo Per darci fastidio Poi si è fatto male Il calciatore spagnolo Che è in forte dubbio Per la gara con il Rosanero A causa di una distorsione Al ginocchio Non al meglio Lorenzetti Confermato in difesa Magnusson Ha recuperato invece Pulzetti Ma a centrocampo Dovrebbe tornare Alinzio Giorgi Arrolabili Lucchini e Volta Che hanno scontato Il proprio turno di stop Sono tanti i giocatori Che rientrano Dalla squalifica Vediamo nella formazione Quanti ne userà Mimmo Di Carlo E comunque invece Quanta fiducia darà Alla squadra Che ha battuto Purtroppo l'Udinese E Krainch Nonostante il recupero di Volta Dovrebbe essere confermato Mentre Lucchini Rientrerà al suo posto Magnusson Anche lui è autore Di un'ottima partita Gioca anche perché Come ci ha detto Fernando Renzetti Non è al meglio Giorgi rientra Al centrocampo Al posto di un deludente Carbonero L'unico credo negativo Nella prestazione Contro l'Udinese Poi De Feudis E Mudingai Confermati Così come il tridente Lì davanti Brienza De Frel E Juric De Frel Che si è avvicendato Con Rodriguez Contro l'Udinese Perché era stato vittima Nella notte Di una forte tracheite Ha giocato comunque Molto bene Adesso Per tutti i fantallenatori Utilizzare tranquillamente Anche perché non c'è L'insidia Rodriguez Che gli vada a togliere Dei minuti Cesena che come abbiamo detto Ha il terzo ultimo attacco E la peggior difesa Del campionato Quindi Palermo Che ne potrebbe approfittare Proprio per tornare al gol Quali sono le notizie Dalla Sicilia? Parli di gol Viene facile parlare Di uno degli elementi Più in palla Dell'attacco del Palermo Vale a dire Vasquez Che è stato intervistato Proprio poche ore fa Da Radio Continental Il trequartista del Palermo Ha sottolineato come questo Sia il momento migliore Della sua carriera Ha parlato anche Della fiducia Che c'è nell'ambiente E di quello che è La coppia d'oro Con Di Bala Ci conosciamo bene Passiamo tanto tempo insieme Per questo Ci intendiamo a meraviglia E poi inevitabile Un passaggio anche sulla nazionale Il solo fatto che Conte Abbia deciso di seguire Le mie prestazioni Mi inorgoglisce tanto È molto gratificante A breve ci saranno Le convocazioni Per le qualificazioni Al prossimo europeo E spero che il mio nome Compaia nelle convocazioni Sicuramente il reparto Più in luce Proprio del Palermo È quello offensivo E un nome come Vasquez Forse là davanti All'Italia può anche servire Anche se Di Bala Che ha subito stroncato Conte Vasquez ha aperto All'azzurro Sì anche se non tutti Sono proprio contentissimi Degli oriundi C'è il nostro Francesco Pezzella Che spesso fa battaglie In questo senso È abbastanza radicale Sì Però effettivamente Insomma tutta l'Europa Va in questo senso Insomma allinearsi Potrebbe anche starci Palermo che giocherà Con la seguente formazione Sempre condizionale D'obbligo Però potrebbe esserci Un cambio di modulo Perché potrebbe passare Al 4-3-1-2 Proprio per un'emergenza Di esterni Squalificato Rispoli Infortunato Finita la stagione Anzi per Morganella Fuori la ZAR Iachini potrebbe ridisegnare La sua squadra L'ho approvato in settimana Vitiello terzino destro Edaprela terzino sinistro Terzi Andelkovic In mezzo al campo Anche perché manca Per squadifica Gonzales A centrocampo Maresca Se dovesse alzare Bandiera bianca Ci sarà Oiaialo O Ciocev E poi Che i son Alle spalle Appunto di Vasquez E di Bala Che sono davvero I due capisaldi Del Palermo I due capisaldi Davvero di chiunque Ha puntato su questi giocatori Al fantacalcio Che quindi non credo Saranno tra gli sconsigliati Per noi Allora Mi fido dell'attacco Del Palermo Nonostante credo Che il Cesena Faccia una bella partita Però insomma Di Bala e Vasquez Sono dei calciatori Troppo in forme Quindi sconsiglio Magnusson Che l'ho visto male Anche contro di noi Ok Maurizio E io sconsiglio invece Le Ali Perché nonostante L'Udinese Non sia riuscito a segnare Mi ricordo quella palla Che gli è Squinzagliata via Non ha Comunque si è dato Quell'impressione di solidità E poi vedo comunque Nel Palermo Una formazione Davvero strepitosa Dal punto di vista offensivo Che può tirar fuori Il cosiddetto Coniglio dal cilindro In qualsiasi momento Dunque Vedo male il portiere del Cesena Io voglio andare controcorrente Sconsiglio un giocatore del Palermo Nello specifico Vitiello Che comunque Anche per via della squalifica È stato fermo molto Ancora Non lo utilizzerei In una partita di fantacalcio Chievo-Roma Subito ci tuffiamo A bomba Sulla partita Del Marcantonio Bentegodi Tra due squadre Comunque Che vivono momenti particolari Il Chievo Comunque da quando è subentrato Maran Sta facendo Delle buonissime prestazioni Ultima Il pareggio Contro il Milan La Roma Che invece Ha pareggiato Contro la Juventus Sembra essersi sbloccata Proprio a livello morale Negli ultimi 20 minuti Contro la Juventus Qui vediamo le immagini Dell'andata Con il regalo Della difesa del Chievo Per i gol di Gervinio Poi ci fu anche Un'altra rete Nel 3-0 Della Roma Facile Facile Insomma Anche Destro Andò in rete In questa partita Destro che ovviamente Ha cambiato maglia Le notizie Per quanto riguarda Segnerà Credo che segnerà Vabbè È comunque un ottimo attaccante Destro Stai cercando di fare il veggente Su immagini del passato No no Assolutamente Eccolo il gol di Destro L'aveva detto Stefano Però Sempre l'occhio attento L'entrale scout Così è troppo facile Bravo Diciamo che l'anno scorso Queste due squadre Si affrontarono In un momento In cui l'unico risultato Poteva essere il 2 Proverà il Chievo A cambiare Questo possibile esito Con quale formazione? Allora Torna a disposizione Ruben Bott E questo può essere Un'alternativa importante Per Maran L'argentino comunque Si gioca il posto Con Meggiorini Paloschi e Pellissier Fuori per infortunio Frey In difesa Dovrebbe essere invece Confermato Mattiello Eh Mattiello Sì Ha fatto veramente Una bella prestazione Contro il Milan Sono piovuti dei 7 Anche perché Sappiamo Diciamo anche Per chi fa il fantacalzo Di solito Quando c'è Un giocatore giovane Esordiente Viene sempre Ma è giusto Che sia così Anche per dare fiducia A questi ragazzi Che si affacciano Alla Serie A Potrebbe esserci La sua conferma Vediamo proprio Nella grafica La formazione Del Chievo Verona Con appunto Mattiello Terzino destro In una difesa 4 Nel consueto 4-4-2 Di Maran Con Zucanovic Dall'altra parte Schelotto Che prende il posto Di Birsa Il resto del centrocampo Confermato Isco Radovanovic Edete mai Davanti Meggiorini Paloschi Noi abbiamo messo Questi due Diciamo che Meggiorini Non ci dovrebbe piovere Paloschi Occhio alla concorrenza Di Botta E di Pellissier Che ha firmato L'unica vittoria Del Chievo Verona Contro la Roma In Serie A 1-0 Con un gol Tra l'altro Allo scadere E a Roma Invece come vanno le cose A Roma C'è un grande problema Oggi anche un articolo Da Gazzetta Sottolineava Il momento difficilissimo Del giocatore più pagato Del campionato Deva dire Daniele De Rossi E c'è qualcuno Che vede addirittura una Roma Senza i due capitani Perché Ne scherzavamo Anche con Con Fernando C'è Il capitano attuale Il capitano futuro Che non sono Che diventa ammassato Ormai drammatico Che sono in un momento Veramente molto Molto complesso E allora potrebbero Lasciare spazio A calciatori più dinamici Insomma È un momento Complicato Della Roma Che passa anche Dal momento difficile Di questi due giocatori Basti pensare A Juve Roma Insomma Sono usciti loro Ed è entrato Il brio Diciamo che Abbiamo visto la partita Mauri vicino a un tavolo Di tifosi della Roma Che hanno anche un po' Esagerato Insomma Nel commentare De Rossi e Totti Comunque Va sempre salvaguardata La grande storia Dei due giocatori È vero che In alcune partite È successo in un derby Con Ranieri in panchina In cui non entrano Nel match E toglierli Non è mai un male Diciamo che l'ingresso Di Turbe In particolare Ha sparigliato le carte Per il pareggio della Roma Roma che possiamo vedere In grafica Tant'è che noi abbiamo tolto Sicuro De Rossi Per il momento Sicuro Totti Per il momento teniamo De Rossi Perché è in ballottaggio Con Pjanic Ricordiamo anche che c'è L'Europa League Che incombe per la Roma De Santistra e Pali Appunto un po' di rotazione In difesa Con Florenzi Al posto di Torosidis Squalificato Col sulla sinistra Al posto di Colebas Centrocampo I ballottaggi Li abbiamo detti Davanti Gervinio Liaic E i Turbe Che davvero È sembrato Tornato sui livelli Di Verone Ancora presto per dirlo Però magari Potrebbe dare continuità Alle sue partite Sconsigliato Maurizio Tocca a me Sì Allora Se avete detto Che Mattiello È un po' sponsorizzato Perché giovane Non punto sull'altro terzino Vale a dire Zucanovic Perché comunque sia La Roma Ha degli esterni Molto molto veloci E potrebbe soffrire Insomma La velocità Da una parte E dall'altra Il Chievo E invece io Non consiglio Ashley Cole Perché Per lo stesso motivo Non è chiaramente Il suo anno Non è chiaramente La sua stagione E fa parte Di quel Camion Di bolliti Che sono arrivati Alla Premier League Forse lui Non ci piacciono I terzini sinistri È la massima espressione Io mi allineo Con quanto detto Da Maurizio prima Giocherà o non giocherà Non schiererei Per il suo momento Di forma Proprio Daniele De Rossi Qualora dovesse esserci O meno in questa partita Provo a prendermi Un brivido in più Spostiamoci ad Empoli Perché c'è una squadra Che torna a giocare Finalmente Ed è il Genoa Dopo aver saltato La gara contro il Parma Si recherà Ad Empoli Contro la formazione Di Maurizio Sarri Partita molto interessante Tra due squadre Che esprimono Un bel calcio È un Empoli Che non perde da cinque partite Insomma Sta facendo anche Molti pareggi E come arriva Questa partita Proprio la formazione toscana E non ci arriva benissimo Perché si è appena Fermato Croce Vittima di un guaio muscolare Che verrà verificato Allo staff medico Sarri è comunque pronto Signorelli Per quanto riguarda La mediana Mentre in difese Laurini Prenderà il posto Dello squalificato Gli Zai Il tecnico Ha poi provato Il doppio trequartista Sia Saponara E Verdi Alle spalle di Maccarone Ma occhio che comunque Tabano conserva qualche chance Per giocare dal primo minuto Infatti diciamolo Comunque Per chi Li ha al fantacalcio È una stagione particolarissima Che Tabano È stato comprato A fior di quattrina A fior di crediti Dai fantallenatori Ed è stata una delusione Perché è esploso Pucciarelli Adesso c'è un caso Rinnovo con Trattuali Pucciarelli Che ha rimandato in voga Tavano Però attenzione Al doppio trequartista Perché insomma L'Empoli ha Saponara Ha Verdi Ha Zielischi Ne ha assolutamente Di trequartisti E potrebbe esserci anche Un cambio di modulo Noi l'abbiamo ipotizzata Con Tavano in campo La formazione Dell'Empoli Con il consueto 4-3-1-2 La certezza Il rientro di Lorini Che qui Fece un grandissimo assist Di Natale Ovviamente ci ridiamo sopra Tonelli, Rugani E Mario Rui A completare la difesa Vecino, Valdifiori e Croce Con Saponara Nel rombo di centrocampo L'esperienza Di Maccarone Tavano davanti Ricordiamo anche Per gli appassionati Delle curiosità statistiche Un solo precedente Al Castellani Tra le due squadre In Serie A 1-1 Segnarono Masiello Per il Genoa Che adesso è all'Atalanta E addirittura Sebastian Giovinco Per l'Empoli In una delle sue migliori Stagioni in assoluto Poi bissata anche In quel di Parma Invece a Genova Insomma c'è tanta voglia Di riassaporare il campo Genoa che è un po' L'Udinese della settimana scorsa Genova che ha assolutamente Voglio di riassaporare il campo Anche perché Dopo la sosta Hanno voglia di conquistare Punti per l'Europa Perché questo è un po' L'obiettivo In questo momento Più chiacchierato In Casa Rosso Blu E c'è stato un evento Nel corso delle ultime ore In cui Perotti e Perin Hanno proprio lanciato Questo grido Vogliamo l'Europa E logicamente Per e Per Perotti e Perin Vabbè vabbè Sì infatti Pensavo Pensavo Volevi Correggermi Meno male che la tastiera È a filo Così Fernando Resta con noi Invece Restando sui virgolettati Appunto hanno sottolineato Siamo in alto E vogliamo restarci Prendo dopo questa battuta Puntiamo all'Europa Domenica vogliamo andare A vincere a Empoli Non sarà facile Ma vogliamo tre punti Per continuare a sognare Effettivamente A parte che Vogliono proporci delle foto Di Elisabetta Canalis Vabbè Che sta sempre bene Diciamo Diciamo che Perché mai Di rifiutare Infatti È un momento Sicuramente felice Per il Genoa Un momento felice Per il calcio in Liguria E c'è anche questo Pizzico di rivalità Entrambe sogna Nell'Europa Forse ci sarà spazio Solo per una Speriamo che la tua battuta Non sia arrivata fino all'altro Assolutamente no Cioè Ovviamente I tifosi del Genoa Sono stati una settimana Senza calcio Come lo siamo stati noi E il sito propone Delle foto Della Canalis Insomma ci può stare Vediamo La formazione del Genoa Che non si discosterà Dal suo solito 3-4-3 Il modulo gasperiniano Il modulo che Vedrete nel finale Useremo anche noi Nelle nostre formazioni Però un po' più equilibrato Quello di Gasperini Con Ron Caglia Burdisso e De Maio in difesa E De Nilsson Ancora traslocato Sulla sinistra Rincon a destra Bertolacci e Kucca Che non si toccano E come non si tocca Altri dente lì davanti Niang Iago Falchè E Diego Perotti Che proprio ha parlato Addirittura di Europa Ci crede il Genoa Diciamo che la lotta All'Europa Tra l'altro Quasi sicuramente Verrà ampliata Al sesto posto Perché praticamente In finale di Coppa Italia Dovrebbero arrivare squadre Come Fiorentina Come Napoli Che già potrebbero avere Posti Nelle competizioni europee Chi sconsigliamo Allora io sono un po' indeciso Perché Empoli e Genova Sono due squadre In grande forma E sono due belle squadre Però Guarda Analizzando l'undici del Genova Non riesco a trovare Un giocatore che Possa fare una brutta partita Anche se poi Chiaramente accadrà E allora Prendo Laurini Anche ricordando Insomma È troppo facile È l'unico Dei venti Insomma La brutta prestazione Contro l'Udinese Maurizio Allora Io sono indeciso Al pari di Di Fernando Non so a chi dare Secondo me L'Empoli Ha un centrocampo Molto molto insidioso E penso che Uno dei due centrocampisti Del Genova Possa andare un pochettino In difficoltà Per comunque Una propensione Decisamente offensiva Mi gioco Bertolacci E rischio Perché Comunque sia Per come fa girare La palla L'Empoli Secondo me Potrebbe far venire Un po' Il mal di testa Io penso Soltanto al rischio Cartellino E dico Magari Non schieriamo Burdisso Anche se uno Che in zona Colloni Tanto Si fa anche vedere Sebbene quest'anno Non abbia ancora segnato Siamo arrivati in chiusura Di prima parte Abbiamo analizzato Metà del programma Pronti per la seconda metà Dopo qualche Piccolo passaggio pubblicitario Noi vi aspettiamo qui Eccoci per la seconda Parte di trasmissione Dobbiamo fare Insomma questa Cavalcata con le seconde Cinque partite Del campionato Iniziando finalmente Da Tardini Da Parma Atalanta Una partita Delicata Che l'anno scorso Finì 4 a 3 Fu uno spettacolo Per il calcio E speriamo che possa Tornare ad essere Una partita del Parma Anche se la situazione Rimane delicatissima Già il fatto che il Parma Torna protagonista Di una partita di calcio È qualcosa che Ci fa piacere Però è praticamente Un paziente Mantenuto in vita Grazie alla Lega Calcio Che oggi ha deciso Di assegnare I 5 milioni di euro Che vengono fuori Dal fondo multe Al Parma Per finire la stagione Hanno votato Le società di Serie A 16 sono quelle favorevoli A salvare il Parma Cesena Invece si è espressa In maniera negativa Per i motivi Spiegati nel corso Nel corso della settimana C'è anche un defrail di mezzo Noi siamo attivi Esatto Esatto Il sasso l'ha lanciato Alessandro Lucarelli Però poi È una cosa che può essere Anche un po' condivisa Però il presidente Del Cesena L'ha smentita categoricamente Hanno deciso Di astenersi Sassuolo Napoli E a sorpresa La Sampdoria Di Ferrero Che era stato Voleva aiutare Il personaggio Che aveva un po' lanciato L'iniziativa Di salvare il Parma Invece Sampdoria Che ha deciso Di astenersi Comunque Mi astengo Questa è la Ferrero Comunque Vediamo la formazione Della Parma Dobbiamo vedere La formazione del Parma Perché ragazzi Siamo seri Il Parma torna Dopo due settimane A giocare a calcio Vediamo Quali dovrebbero essere Gli undici scelti Da Donadoni Con ovviamente Mirante tra i pali Facciamo fatica A disegnare La formazione del Parma Perché comunque Allenamenti fatti Non fatti Ci dovrebbero essere Cassani e Gobbi Terzini Lucarelli e Costa Centrali Mariga Centrocampo Insieme a Mauri E Nocerino Varela Rodriguez E la sorpresa Il rientro di coda Che tra l'altro Con cittadino Di Siani Che però non l'ha scelto Nel suo top 11 Tiratina d'orecchia Anche per te Una formazione Che continuiamo a dirlo Anche a livello Fantacalcistico Non è assolutamente Male E vedremo cosa farà il Parma Vedremo quando si recupererà Eventualmente La partita con l'Udinese Con il Genoa È sempre una situazione Un po' appesa a un filo A Bergamo La situazione anche Non è propriamente tranquilla C'è stato un cambio in panchina Sì E tra l'altro voglio sfruttarla Visto che del Parma Si parla dal punto di vista Prettamente economico Diciamo che il Corriere di Bergamo Ci ha messo giù il carico Da 90 anche su Reia Arriva sulla panchina Con un bel po' di responsabilità E soprattutto Si sottolinea Una partita da 30 milioni Perché Si è scritto questo Spiegando che dietro La scelta della dirigenza Nerazzurra C'è la necessità Di non perdere la Serie A I diritti TV Che tengono a gala Al bilancio In caso di retrocessione B Sarebbe obbligatorio Vendere i gioielli della Rosa Per diminuire gli ingaggi Quindi Se Parma non sorride Anche a Bergamo Diciamo che Un poco di preoccupazione c'è Sicuramente c'è un po' di preoccupazione La prima Atalanta Di Edoardo Reia Dovrebbe avere Anche da quelle che sono le indiscrezioni Un nuovo volto Potrebbe essere un 4-3-3 Quello dell'Atalanta Ma non è da escludere Nemmeno un 3-5-2 Sono due schemi Che lui Ha usato spesso Anche insieme al 4-1-4-1 Quando era a Roma Con la Lazio Sono tanti i numeri Più o meno questi dovrebbero essere Gli uomini Con Sportiello Bellini Cherubin Che sostituisce lo squalificato Stendardo Benaluan Drame In vantaggio nel ballottaggio Con Del Grosso Carmona Cigarini e Baseli Per un centrocampo Di assoluta qualità E davanti D'Alessandro Con Emanuelson E Dennis Insomma alla fine Poi sono 5 centrocampisti E una punta sola Con Dennis Leggermente favorito Su Piniglia Questo comunque Il quadro Dei giocatori Chi andiamo a sconsigliare Fernando Sconsigliamo Beh Dovrei andare a Parma Sicuramente Per forza Perché dopo due settimane Di inattività E scelgo Mariga Io scelgo Seboia Rodriguez Per il semplice fatto Che in settimana Ha detto Che voleva andare in Brasile O negli Stati Uniti E non vedo possibile Come abbia la testa Sul Parma Poi magari Ci smentirà Però il giocatore Ha rilasciato dichiarazioni Che ti fanno capire Come ne ha già le scatole piene Adesso però si riparte a giocare Vedremo Io non so se esista Qualche fantallenatore Che lo ha al fantacalcio Però non vedo benissimo Costa In questa giornata Facciamo un piccolo break Proprio per parlare Di fantacalcio Dovremmo avere in collegamento Ancora una volta In diretta dalla redazione Di Fantagazzetta Vincenzo Di Mauro Ci sei Vincenzo? Ciao Buonasera a tutti Ciao Vincenzo Ciao Buonasera ancora a te E ti andiamo a chiedere Insomma Magari la prima domanda La facciamo proprio Su questo Parma Perché si sono Insomma Un susseguirsi di articoli Come gestire questo caso Pare Pare Si stia vedendo La fine del tunnel Almeno Per quanto riguarda Proprio i fantallenatori Eh sì Diciamo che Va risolvendosi Nella maglieniera Diciamo Più semplice Tra virgolette In una situazione Veramente intricata E difficile Per chi ha la Lega Su fantagazzetta.com Ci sono due strade Allora O assegnare il sé politico Per le partite del Parma Che sono state rinviate Come quella con l'Udinese E quella con il Genoa Oppure aspettare i recuperi Che sono ancora A data da destinarsi Contro l'Atalanta Il Parma Viene da due settimane Di attività Come avete detto È difficile consigliare Qualche giocatore Dei Ducali A me piace Rodriguez Perché è un giocatore Che è venuto in Italia Per conquistarsi Poi un posto Per la prossima Coppa America Con la maglia dell'Uruguay Vediamo se l'Atalanta Saprà approfittare Del momento difficile Dei Ducali Certo Il ritorno in panchina Direi Favorirà sicuramente Denis In attacco Ma anche Cigarini A centrocampo Dobbiamo ancora arrivare Con l'analisi Alla coda Di questa giornata Di campionato Però il piatto ricco Tra Napoli Inter Lazio-Frientina La stessa Juventus Sassuolo Insomma Ti chiediamo Il tuo consueto giro Un po' di consigli Chi schiereresti Tu al Fantacalcio Beh Guardando un po' Questi big match Sicuramente Gabbiadini È da tenere dentro Sia che possa partire Titolare o meno In una fantasquadra È da schierare Perché nel Napoli Sta facendo davvero La differenza Calcia anche le punizioni Abbiamo visto il palo Contro il Torino Il gol poi in Coppa Italia Insomma È diventato ovviamente Decisivo per l'undici Di Benitez Nell'Inter Sta facendo molto bene Guarin Con i suoi inserimenti Tiro da lontano Un centrocampista Dunque pericoloso E propenso Propenso al gol Per Lazio-Fiorentina Nei bianco-celesti Tornano titolari Candreve close dopo Il turnover contro il Sassuolo Ma mi sento di Di consigliare Anderson Anche se viene Da due partite Dal primo minuto Anche in Coppa Italia Contro il Napoli Ha giocato L'intera gara Non vorrei che Che Pioli Lo facesse almeno Inizialmente riposare Una scelta che Mi sorprenderebbe Però Nella viola Invece l'infortunio Di Gomez Apre le porte Per il ruolo Di punta centrale A Ilicic Lo slovenno Potrebbe essere lui La sorpresa Visto che oramai Salah Non lo possiamo più Chiamare sorpresa Dopo i sei gol Nelle sette partite Giocate fin qui Con la maglia viola Juventus Sassuolo Torna Pogba Al primo minuto E allora il francese Da schierare Nel Sassuolo Difficile consigliare qualcuno Trasperta molto difficile Allo Juventus Stadium Puntere su Berardi Perché è rigorista Dei nero-verdi E dai suoi piedi Passano tutte le giocate Dei nero-emiliani E può diventare pericoloso Ti ringraziamo Vincenzo Come al solito Molto puntuale e preciso Tra l'altro A proposito di Salah Sottolineiamo Un bellissimo video Che avete pubblicato Insomma Con All'asta di riparazione Che veniva comprato a uno Tra le risa Degli altri Degli altri Fanta allenatori E invece È stata la vittoria Di tutti i Fanta allenatori Salah Eh sì Alla fine Vedi Chi spende Vince chi spende bene Non chi spende tanto Al fantacalcio Grazie mille Vincenzo Una buona serata a te Grazie per essere stato con noi A voi Buonasera Ciao Noi continuiamo con Siani Scusa Complimenti per l'acquisto di Salah A fantacalcio Allora Loro due hanno Salah In questo fantomatico Fantacalcio Complimenti reciproci Eh beh È vero È vero Sala è stato consigliato Però da Maurizio Ferrari Ferrari ha spinto Per l'acquisto di Salah Diciamo così Io sono presidente Siani è mister Tra l'altro Che però la settimana scorsa Non ha messo Felipe Anderson Insomma Però per un mero errore di distrazione Sempre distratto I nostri siani Sempre Non voglio sapere da cosa Si nasce Andiamo veloci con Udinese Torino Sempre per il solito motivo Perché comunque Sull'Udinese Diciamo sempre tutto Nel resto delle trasmissioni Diciamo solo Che l'Udinese È ovviamente Chiamata Al risultato Questo sempre Ma in particolare In questo momento Contro l'avversario Forse più difficile Di questo momento di Serie A Come siamo messi a Udine Anche se lo sappiamo abbastanza Beh insomma Siamo messi Non benissimo Perché Ertò Si è fatto male ieri Nell'amichevole È da vedere Se riuscirà O meno A recuperare Dal primo minuto Non era messo malissimo Poi nel post gara Quindi c'è Un ottimismo Come dire Non concretissimo Però abbastanza presente In ogni caso È pronto Vague Dovrebbe tornare Piris E poi C'è da capire O meno Se giocherà Si rilaterò Alle spalle di Totò Di Natale Oppure Doppio tre quartiere Vediamola proprio La formazione dell'Udinese Perché le opzioni Sono tantissime Nemmeno noi Che la seguiamo ogni giorno Tra l'altro Stamaccioni è bravissimo A nascondere le carte Possiamo capire Quale sarà la formazione Abbiamo ipotizzato La difesa Senza Ertò Perché comunque Diciamo che non dovrebbe recuperare Anche se ci speriamo Vague da Nilo Piris Anche se comunque Vague sta facendo Un ottimo campionato Quando viene chiamato in causa E Piris Ha riposato Per così dire Contro il Cesena E quindi è fresco Widmer e Pasquale Un lieve vantaggio Su Gabriel Silva Come esterni Potrebbe Noi abbiamo scelto La novità Pinzi Al posto di Vaduma Potrebbe anche essere Al posto di Ghierme Così come hai detto tu Il doppio trequartista Con E Ce ne sono davvero tante Di possibilità Davanti noi abbiamo scelto Però Tero Di Natale Che per ora È la coppia goal Dell'Udinese E speriamo che possano Tornare a esultare Proprio contro il Torino Che è la miglior squadra Del 2015 Chi ha parlato Per il Torino Maurizio A proposito dei difensori Abbiamo detto Dei dubbi difensivi Soprattutto in relazione Purtroppo All'acciacco Rimediato da Tom Ayrton Alla botta Rimediato da Tom Ayrton Nell'amichevole Vinta 4-0 Sulla Clodiense Che tra l'altro Aveva proprio i colori granate In memoria Del grande Torino E sta facendo grande Il Torino Del presente Camille Glick Un difensore Che si sta sottolineando Per rendimento Un difensore che Si è detto orgoglioso Di essere il primo straniero Ad avere la fascia Da capitano del Toro E allora è pronto Anche a firmare Oltre che è pronto A segnare i suoi gol Per Fernando Siani Quando lo sceglie Al Pantacalcio Come ha fatto Giustamente nella scorsa giornata È pronto a firmare Per altri 5 anni Poi ha detto anche altre cose Ventura Un padre calcistico Con lo Zenit Puntini Puntini Insomma Però se il Toro Sta andando così bene Merito anche dei tanti gol Oltre che delle buone Prestazioni difensive Di Camille Glick Uno che ci ha messo Nel mirino E negli uomini Da controllare bene Anche il nostro Pavel Bocnevitz Ha detto Il record di gol So che Materazzi Arrivò a quota 12 in passato Ogni tanto Penso a quel record Quindi Ha questa ambizione Un pericolo Per la nostra retroguardia Verrà anche da lui Oltre che Inevitabilmente Da quello che è un ex È molto chiacchierato È già a metà strada Materazzi batteva Punizioni e rigori Quindi applausi A Glick E attenzione a Glick Anche se Nella nostra formazione Facciamo questo azzardo Non lo ipotizziamo Perché Perché ricordiamolo C'è una trasferta A San Pietroburgo Che incombe Il Torino Deve assolutamente Cercare di Insomma Gestire al meglio Quelle che sono le energie In difesa Potrebbe esserci Comunque Mentre vediamo scorrere Le immagini Di quella che è stata La partita Dell'anno scorso Non felicissima Forse una delle peggiori Dell'Udinese Dell'anno scorso Con il 2-0 Firmato da Farnerud De Immobile Per quanto riguarda Invece lo schema Che andrà a predisporre In campo Ventura Siamo ancora Sul 3-5-2 Con qualche alternanza Che ci potrebbe essere Nei ruoli di difesa E centro campo In particolare Con Come abbiamo detto Un Glick Che potrebbe riposare Con il rientro di Maximo Vice la conferma Di Bovo Sicuro Come al solito Bruno Perez Perché in Europa Non può giocare Benassi Gazzi e Farnerud Leggermente favorito Proprio sul Caduri Darmian In ballottaggio Perpetuo Con Molinaro Per quanto riguarda Le partite Prima dell'Europa League Davanti abbiamo ipotizzato Martinez e Maxi Lopez Perché potrebbe Non giocare Fabio Quagliarella Quanto meno dal primo minuto Ripetiamo Che comunque Il parco offensivo Del Torino È di tutto rispetto Chi andremo a sconsigliare Maurizio Del Torino Immagino Io Provo a Sconsigliare Darmian Forse un po' A sorpresa Lo vedo Piazzato Nella nostra Popabile Formazione A sinistra Forse un po' Di scorie Dalle tante partite Giocate Di un certo peso Magari Buttiamoci anche Un Siv Wittmer In forma E magari Un pochettino Ancora nel mondo Dei sogni Dopo quel gol Contro il Bilbao Ci provo E invece Da inguaribile Ottimista Sconsiglio Padelli Che magari Mi auguro Che davanti Totò di Natale Riesca a ritrovare Quella vena realizzativa Che tanto ci ha fatto sorridere Nel corso di questa stagione Nel corso degli ultimi anni Per cui Fuori Padelli E quindi Ho Maximovic Un difensore Su tre Lo prendo a caso Sperando che faccia La peggior partita Della stagione Arriviamo al piatto ricco Di cui dicevamo prima Napoli-Inter È una partita Che si presenta Da sé È una partita Che ha avuto Tanti precedenti In Serie A Tra l'altro Molto curioso Come sono disposti I risultati 68 i precedenti Mentre qui vediamo L'ultimo precedente Molto natalizio Con delle signorine Poco vestite Da Babbo Natale Con 68 precedenti 34 vittorie del Napoli E poi 17 pareggi E 17 vittorie dell'Inter L'anno scorso Fu una brutta figura Per l'Inter di Mazzarri Mazzarri che rientrava Al San Paolo Per la prima volta D'avversario 4 a 2 Per i Partenopei È un Napoli Che ha strappato Anche un buon pareggio In Coppa Italia E come arriva Questa partita Allora Ci arriva bene Gli Azzurri sono rientrati Da Roma Dopo il pari Team Cup contro la Lazio Mister Benitez Ritroverà Mertens Dopo il turno di stop Mancherà invece Gargano infortunato Occhio che questo potrebbe essere Un'assenza pesante Per Rafa Benitez Che ha sempre puntato Sull'uruguaggio Nel corso di questa stagione Non al meglio omaggio Per noi è muscolare Occhio che potrebbe giocare Mesto E queste potrebbero essere Quindi Le indiscrezioni Di formazione E quindi Vado per annunciare Che per ovvi motivi Avremo un piccolo errore in grafica Perché noi avevamo comunque Ipotizzato Gargano Che è veramente una perdita Dell'ultima ora Per il Napoli Fatto sta che comunque Il resto della formazione Ricalcherà Il 4-2-3-1 Con Goulam Che continuerà Questa alternanza Con Strinic sulla sinistra Anducar è ormai il portiere di campionato Hiller e quindi David Lopez Di logica conseguenza Centrocampo E l'eterno ballottaggio De Guzman Con Gabbiadini Gabbiadini come ci ha detto Il buon Vincenzo di Fantagazzetta Da schierare Sempre e comunque Pure se dovesse partire Dalla panchina Perché contro il Torino Anche ha cercato Di spaccare il match Davanti Higuain È ovviamente La certezza Inter Che deve riprendersi Da questo 0-1 Contro la Fiorentina Che ovviamente Non ha lasciato Il migliore Dei morali In casa Nera Azzurra Però il periodo Non è assolutamente Negativo Maurizio No Anche se C'è una perplessità Un dubbio Che riguarda Uno degli elementi Più chiacchierati Più discussi E spesso Anche più in forma Della formazione Nera Azzurra Parliamo di Icardi Uno degli uomini goal Di questa stagione Per Mancini Problema muscolare Per lui Ed è in dubbio Per la sfida Con il Napoli C'è questo grande allarme Qualche titubanza Relativa proprio all'Argentino Nelle prossime ore Sarà valutato Nell'eventualità In cui Non dovesse farci Al candidato numero uno Per il suo posto È Podolski Che cerca ancora Invece Il primo gol in Nera Azzurro Ed è favorito Sul giovane Puskas Non sono convinto Di quest'ultima frase No Nel senso Podolski davvero È una grandissima delusione Vabbè Dovrà segnare Prima o poi Certo Magari farlo con il Napoli Non sarà semplice Se gli viene preferito Puskas Anche se comunque Io leggo da internet Che l'allarme Icardi Sembra rientrato Questa è una speranza Da fantallenatore Che hai tu Chiaramente È una speranza Da fantallenatore Però lo staff medico Da quanto leggo Insomma Ha tranquillizzato Mancini Sulla disponibilità Noi lo messiamo Noi lo messiamo a rischia È questo il grande dubbio Perché insomma Ovviamente c'è il Wolfsburg C'è il Wolfsburg Che non è una partita facilissima Noi in formazione Fernando Per adesso Lo mettiamo Però Stiamo con questo allarme Con questa campanella Che suona Nel tridente Della formazione dell'Inter Con Shakir Che questa volta Verrà confermato Niente turnover Perché contro il Napoli Assolutamente Non si scherza No No Direi che Mancini Ha già Esagerato troppo Nel dosare Cerdan-Shakiri Andiamo a vedere Proprio la formazione Dell'Inter Con il consueto 4-3-1-2 Perché alla fine Il rientro di Shakiri È tra virgolette L'unica novità Per il resto La formazione non cambia Con Campagnaro-Santon Terzini Anche se C'è l'ipotesi Dodò Sempre pronta Anche lo stesso D'Ambrosio Che sembra essersi ristabilito Juan Jesus Ranocchia Noi mettiamo Ma occhio Sempre a Vidic Che potrebbe Spuntarla Guarin Medele Brozovic Alle spalle di questo Tridente Noi Podolski L'abbiamo messo Comunque Però anche qui C'è l'ombra di Palassio Insomma ci sono tantissime Scelte nell'Inter Mancini può scegliere Tranquillamente A ridosso Della gara Del match Del San Paolo Dicevamo Giustamente L'osservazione di Maurizio C'era tutta Podolski Prima o poi Dovrà segnare Se li sta mangiando A ripetizione i gol Non giocando in Europa League Perché non è in lista Comunque le sue quotazioni Sono sempre abbastanza alte Sconsigliamo Chi deve Maurizio Forse io Vabbè Comunque vado io Vado con Ranocchia Che secondo me Sta vivendo Un'annata Un'annata Orribile Beh hai sempre Se vuoi Onestamente Conoscendo il Napoli Arriverà con una rabbia Dopo la partita persa Con il Toro Importante Per cercare di guadagnare Punti in classifica Là davanti Una batteria Degli attaccanti Pazzesca E i centrali Dell'Inter In questa stagione Hanno dimostrato Di avere Più di una lacuna Io sconsiglio Però Albiol Perché secondo me Davanti l'Inter Non è vera Questa cosa È uguale Non è assolutamente vera Ripesca una foto Ripescheremo una foto Albiol Comunque Secondo me L'Inter Con Schachini I carni Palacio Parapodolski Un gol al Napoli Lo fa Il Napoli Mario ne fa tre Però Si accende la sfida Fernando Perché l'ha scelto Ferrari Nel top 11 Ma ci arriveremo Albiol Io nel frattempo Sconsiglio Sempre per il rischio cartellino Davide Lopez Che è uno che Non va mai piano Con le entrate Sempre abbastanza Nervoso Arriviamo al Monday Night Due partite Davvero molto belle A cominciare Soprattutto da quella Delle ore 19 Lazio Contro Fiorentina È una partita Che l'anno scorso Stranamente non ha dato spettacolo 0 a 0 La partita Tra i bianco celesti E la viola A Montella Che ovviamente Vuole continuare Questo periodo Fantastico È una Lazio Che ha fatto Tre vittorie Nelle ultime cinque partite La Fiorentina È invece È in un momento Forse ancora migliore Perché ha messo In cascina Undici punti Nelle ultime cinque partite Quindi Assolutamente Un bottino Esaltante Frutto della Vittoria Soprattutto Contro l'Inter Nell'ultima giornata Di campionato È veramente Una formazione Quella di Montella Che sta cominciando A capire sul serio Di che pasta è fatta Può mettere in difficoltà Qualsiasi squadra Anche una squadra Qualitativa E in un ottimo momento Come la Lazio Come si arriva La Lazio che però Potrebbe rinunciare a Marchetti A causa di una contusione All'avampiede Il portiere in dubbio Potrebbe lasciare il posto A Beriscia Problemi anche per Mauri A causa di un'infrazione Al piede Anche se Ferrari Lo vedo in formissima Difficile il suo recupero Quindi Mister Pioli Potrebbe affidarsi A Candreva Ai Close Che ritrovano Nel posto all'inizio In campionato Ai Box Invece i soliti Giorgevic Lulic Gentiletti Conco E Pereirina Tra l'altro ce ne sono due Di Mauri in campionato Noi abbiamo il terzo Qui nel nostro tridente C'è anche Maurizio Alla Lazio Quindi possiamo divertirci Un salto Maurizio Che è ancora titolare Nella formazione Che vi andiamo a proporre Della Lazio Il 4-3-3 Di Pioli Marchetti In ballottaggio con Beriscia Dipende tutto Dalle condizioni fisiche Dell'ex Cagliari Maurizio Appunto in difesa Basta confermato Era già rientrato Comunque Contro il Napoli Cataldi Favorito suo Nazzi a centrocampo Poi Biglia E Parolo Davanti come detto Riposerà Per forza di cose Stefano Mauri Dentro Candreva Close E Felipe Anderson Però occhio Perché l'analisi Del nostro collega Di Fantagazzetta Era più che mai azzeccata Felipe Anderson Al momento è un giocatore Di cui è difficile privarsene Ma viene da 180 minuti In pochi giorni Quindi potrebbe Anche riposare Almeno dall'inizio A Firenze invece Morale a mille Sì il morale a mille Voglio solo puntualizzare Oggi sto bene Nonostante la partita A calcetto di ieri Ma domani non lo so Quindi le condizioni Di Mauri Andranno assolutamente Rivalutate Anche per quello Che riguarda Sottoscritto Dipende se ritroverà La cimitarra Non so se poi Fernando vuole anche Ripescare una foto Di ieri Visto che Giusto per non far vedere Che non siamo Dei Dei Ciarlatani No Magari lo siamo Lo stesso Però almeno Abbiamo delle voci autorevoli Con cui parlare Di pallone Tra l'altro poi Aspetto anche la foto Di Raul Albi Va beh Allora andiamo avanti Andiamo avanti Con quello che è L'uomo del momento In casa Fiorentina Lo ha detto Anche il nostro amico Di Fantagazzetta Salah Almeno parlano i gol Al di là di quelle Che sono le scelte Di formazione mie E di Fernando Siani Nel nostro Fantacalcio privato Salah È un giocatore Che ha avuto Un impatto pazzesco Con il calcio italiano E ha parlato Durante Una trasmissione Che andrà in onda Domenica A Sport Mediaset C'è una piccola anticipazione Posso dire ai tifosi Da Fiorentina Che lotteremo Fino alla fine Perché vogliamo vincere La Champions Tutti la vogliono Sarà una lotta Fino al termine del campionato Faremo di tutto Per raggiungere Questo obiettivo Ecco perché Cari due terzi Del tridente Sicuramente Lazio-Fiorentina Secondo me Sarà una gara spettacolare Lazio-Fiorentina Assolutamente Il big match Perché Insomma Sono due squadre Che sono rispettivamente A 43 e 42 punti Il Napoli è lì Ha un soffio E gioca tra l'altro Contro l'Inter Non una partita facilissima E chi vince Può pensare concretamente Al terzo posto Considerato anche Che la Roma È abbastanza in fase grande Prima delle due chicche E dell'ultima partita Vediamo la formazione Della Fiorentina Perché ci sarà Un tridente atipico Ce l'ha già un po' Anticipato il nostro Vincenzo prima Ilicic potrebbe Traversirsi La prima punta Così come lo stesso Salano E abbiamo anche Ipotizzato Joachim Che in ballottaggio Proprio con Ilicic Diciamo che Diamanti e Salà Invece sono Gli unici sicuri Del tridente Neto ancora Tra i pali Nonostante sia Un divorziato Un separato in casa Sta facendo Delle ottime partite Alonso preferito A Pasquale Basanta al posto Dell'infortunato Savic Richards ancora Confermato sulla destra Dovrebbe Diciamo Dovrebbe rientrare Dal primo minuto Borca Valero Dopo quel brutto Pestone Al piede Insieme a Badel Favorito su Pizzarro E all'altro Cileno Matti Fernandez Anche lui Che ha smaltito I problemi fisici Problemi fisici Che non ha denotato Ieri Un giocatore Che alla partita Di calcetto Dopo sei mesi Di inattività Insomma Ha fatto la sua figura Non parliamo di Maurizio Ferrari Chiaramente Ma i mesi di inattività Erano molto di più I mesi di inattività Di Ferrari Ma di questo signore qui Che insomma Udine qualcuno conosce Qualcuno Qualcuno conosce Eccolo lì Paolino Poggi Che ieri Ha diviso con noi Il campo di calcetto Insieme a un giocatore Del Calloni Albert E Frainetti Tra l'altro Alberg Il giocatore dell'udinese Era contro Paolo Poggi Che gli ha Fatto passare il pallone Praticamente Da ogni parte del corpo Poi è calata La condizione fisica Sono venuti fuori I veri valori Questa è Insomma Quello che si è svolto ieri A parte i scherzi È stato qualcosa di straordinario Per noi Qualcosa che io da piccolo Inenarrabile Francamente sognavo E quindi è stato davvero Qualcosa di straordinario E poi ti ho recuperato Raul Albiol Ci tieni a farlo vedere Il selfie di Fernando Siani Mettiamo Raul Albiol dietro E Siani che saluta Direi che È chiaramente identico Spostati un po' Fernando Spostati un po' Ecco Mettiamolo Beh diciamo Che non è male Questa somiglia Bene Ne ho viste di peggiori Siani è molto avvezzo Siani assomiglia Un sacco di persone Chiaramente Questa cosa non va bene Vabbè Quanto ci manca Tagliati davvero poco Sì Ma hanno scambiato Questo ramacione Io ricordo ancora Quando entrò Il signore redazione E venne a me Disse il mister Allora come giochiamo Vabbè Era chiaramente un pazzo Purtroppo riposato Per chi ce l'ha Al fantagalcio Contro la Fiorentina Perché ha giocato Dal trentasettesimo in poi Tripletta E poi il gol Di Peluso Che tra l'altro Ironia della sorte Adesso È un giocatore del Sassuolo Andiamo a sentire Le notizie da Torino Sì Rapidamente I bianconeri Sono già in campo Dopo il capo Con la Fiorentina Mister Allegri Tornerà a schierare All'inizio Licksteiner Chiellini e Tevez Infortunato Coman Che si aggiunge Ai già noti Pirlo Romulo E Asamon Vediamolo quindi Lo schema della Juventus Che comunque Andrà ad affrontare Una squadra delicata Come il Sassuolo Con la sua difesa A quattro Licksteiner Bonucci Chiellini E Devra Spazio ancora Per Pereira Dal primo minuto Perché Pirlo Ricordiamolo Infortunato Il Marchisio Fa il vice Pirlo Davanti Morata Tevez Sassuolo invece Che si dice Sassuolo parla Quello che è Un ex Peluso Che dice La più scontata Delle ovvietà Vale a dire Che contro la Juve Bisogna giocare Al 110% Pensavo se segno Non esulto Non è una novità Non è una novità Non segnerà mai Peluso Se segno non esulto Secondo me Si toglie anche I pantaloncini Oltre alla maglietta Rimanendo Però su quelle Che sono le Dichiarazioni di Peluso Ha sottolineato Che sta meglio Visto che era Fermo in box Da qualche settimana Spero di ributtarmi In campo Perché mi manca Quindi prova A giocarsi anche lui Una chance Lui che conosce bene Lo Juventus Stadium È uno stadio moderno Che ti dà tanto Sassuolo Noi l'abbiamo messo Peluso Adesso Perché potrebbe giocare Tra l'altro Sia da centrale Lo ipotizza così La gazzetta dello sport Ma anche Nel suo ruolo naturale Quello di terzino sinistro Andiamo a vedere La formazione del Sassuolo Con Peluso Nel suo ruolo originale Di terzino sinistro Ci fa sempre molto sorridere Di Francesco Che entra con la mossa di karate Bianco E Acerbi in difesa Scelte obbligate E poi Taider Favorito su Brighi Al centrocampo Torna Magnanelli Dalla squalifica Davanti Sansone E i due Anche mezzi Juventini Berardi E Zazza Detto questo Abbiamo chiuso l'analisi Con le nostre dieci partite Chiudiamo Perché abbiamo sconsigliato Giocatori a destra e sinistra Prendendoci o non prendendoci Ma adesso la competizione reale Dovremmo sconsigliarne una velocezza Veramente mi pare Li abbiamo sconsigliati Non li abbiamo sconsigliati Neanche per Lazio e Fiorentina Veloce Sconsigliati Lazio e Fiorentina Nella Lazio Io sconsiglio Maurizio Sì Nella Juventus Nella Juventus Nel Sassuolo Sconsiglio Consiglio Io sconsiglio Netto Per la Fiorentina Che secondo me Potrebbe avere Un calo Di tensione E proprio Peluso No Peluso Me l'hai rubato Quindi io dico Bianco E nella Fiorentina Mika Richards Perché ha detto Mika Richards Perché è un assist Vediamo la formazione Mai una gioia Con allenatore Fernando Siani Facciamola commentare a lui Perché ha scelto Questi giocatori Sì Attendo ovviamente Il supporto Nella grafica Per commentare Nella mia top 11 Un dubbioso Fernando Siani La posa da conquistatore In porta Scelgo Perin Perché insomma È sempre una sicurezza Secondo me Perin Giocatore che è informissima Tra me Richards E Lick Steiner In difesa Dunque è una difesa Piuttosto mobile A centrocampo Buonaventura Per il Milan Insomma dovevo per forza Sceglierne uno Del Milan Ne ho scelto Giacomo Buonaventura Brienza del Cesena Perché mi ha impressionato Contro l'Udinese Scelgo Shakiri dell'Inter Perché torna a titolare A furor di popolo E poi prendo Widmer Per quanto riguarda l'Udinese In attacco Eder Perché secondo me Avrà fortuna Nell'anticipo di sabato I Turbe Che so Che è una scelta Che condivideremo insieme E poi Gabbiadini Insomma Anche io Ho seguito Il consiglio Del nostro Vincenzo Di Fantagazzetta Perché davvero Al momento È un giocatore Insostituito Una discreta formazione Vedremo quanti punti Farasiani Questa volta Il cucchiaio di legno È veramente in palio Questa volta Maurizio Se l'è scampata Vediamo proprio La formazione Di Maurizio Ferrari Fantacanaglia Fantacanaglia Perché Guarda anche che faccia Andiamo A scegliere Quelli che sono Gli uomini Io ho puntato Ho scelto De Santi Si importa Perché comunque sia Nella Roma Vedo un po' Di difficoltà Ho messo Lucarelli In mezzo Perché a forza Di fare tante chiacchiere Spero che faccia Anche i fatti Romagnoli E Albioli Insieme a lui Quindi Albioli Che Siani Aveva sconsigliato Io invece Ci ho puntato su Perché secondo me Comunque sia Potrebbe fare Una discreta partita Da centrocampo in su Invece un po' I nomi che mi intrigano Di più Spero che Menessi Risollevi Punto su Allan Che spero Possa fare Una buona prestazione Con il Toro Felipe Anderson E Salà Puntiamo sul calcio spettacolo Di Lazio e Fiorentina Di Bala Niang e Tevez Su Di Bala e Niang Penso possono essere Due uomini in grande forma Tevez L'altra volta Ho scelto Morata Che non ha segnato Ho segnato Tevez Dunque cambio Io mi vergogno estremamente Della foto Comunque Del mio Fantallenatore Vediamo L'atletico disagio Della mia formazione Ovviamente Del conduttore In questo caso Con appunto Questo 11 Schierato come al solito Con il 3-4-3 Ricordiamo le regole Un giocatore per partita Tranne una partita Che è doppia Di una squadra E dell'altra Ho scelto Viviano Tra i pali Perché il Cagliari Segna parecchio Ma non lo vedo in forma Piris Ovviamente Il mio pupillo In difesa Accompagnato Da Emanuelsson e Antonelli Due che spingono molto Poi Felipe Anderson E Salah Sono scelte In condivisione Con Maurizio Con Fanta Canaglia Poi Perotti Brienza Che tra l'altro Invece ha scelto Siani Con Mai Una Gioia Davanti Anche qui I Turbe E Tevez Sono scelte Che abbiamo condiviso Sono andato forte Su Higuain Perché sta vivendo Un momento Felicissimo E molto rabbioso E credo che possa tradurre Questa rabbia Contro l'Inter In termini di Più 3 E se qualcuno non gioca Perché siccome L'altra volta sono Giusto Dobbiamo dire tutte le regole Se qualcuno non gioca Entra un 5 e mezzo D'ufficio Ok Perché comunque 6 sarebbe troppo facile 5 e mezzo Vedremo Faremo i conti Chi vince Chi fa più punti Porta a casa lo scettro L'altro Chi perde Il cucchiaio di legno Il secondo Tranquillissimo Faremo lo scettro Sono già sul trono Salutiamo Io cosa so Il trono Vabbè Salutiamo Perché siamo andati Veramente lunghi Ci fa sempre piacere Parlare di fantacalcio Con voi Speriamo di Farvi sempre compagnia Ciao Maurizio Ciao ciao a tutti E ovviamente Una buona Buon weekend di calcio A tutti i nostri appassati Ciao alla sinistra Raul Siani Ciao Stefano Ciao Maurizio E buon weekend E buon fantacalcio a tutti Ovviamente buon fantacalcio A tutti anche da parte mia Siamo arrivati in chiusura Rimanete sempre con noi Per tutta la programmazione Di Udinese Channel E ricordate qui Si gioca sempre a tre Grazie a tutti Grazie a tutti